tom il carro attrezzi ehi ragazzi è una giornata ideale per una partita ti stai divertendo a fare il tifo baby tom vai così Gary oh cielo oh oh ti sei incastrato baby tom Francis ha bisogno di aiuto puoi andare a prendere tuo padre lui di certo può aiutarlo ciao tom baby tom deve chiederti un favore Francis ha avuto un incidente di calcio puoi rimorchiarlo al tuo garage grazie tom è alla scuola andiamo grazie a tutti grazie a tutti non preoccuparti Francis Tom si prenderà cura di te nel suo garage come farà di te nel suo garage a liberarlo dalla rete! Oh! Quelle dovrebbero funzionare! Ottimo! Bel lavoro, ragazzi! Sì, riesci a muoverti di nuovo! Qual è il prossimo passo, Tom? Ma quante gomme che hai lì! Sei tornato il Francis di prima! E ora che si fa? Mi chiedo cosa siano quei cosi! Sono fantastici, Tom! Qualche altra idea, Tom? Cosa nascondi là sopra, baby Tom? Oh, forte! È per la portiera di Francis? Grazie per tutto il vostro aiuto, ragazzi! Siete stati grandi! Torniamo alla partita! Belle mosse! Così si fa, Francis! Ed è gol! Ciao, amici! Arrivederci alla prossima! Ciao, stai, Stai! Grazie